All'anno rosso! Lo sfidante al titolo italiano, categoria presi leggeri, da Guidonia, da Angel Warrior, Manuel Leccio! Lo sfidante al titolo italiano, Manuel Leccio! E ora, balla il suo ingresso sul ring, il suo avversario è il campione italiano in carica, categoria presi leggeri, da Roma! Mascuale! Del cuore! Di Silvio! Di Silvio! Di Silvio! Di Silvio! Di Silvio! Di Silvio, di Silvio! Di Silvio, di Silvio, di Silvio! La BVT Production del Comune di Midonia in collaborazione con la Lega Pro Box e Rai Sport presentano il main event della serata un incontro di pugilato sulla distanza di 10 round valevole per il titolo italiano categoria pesi e geni medico dell'incontro è il dottor Claudio Fabricatore di Roma supervisore della federazione pugilissima italiana signor Massimo Barrovecchio di Roma giudici, signori, Salvatore Aula, Dior Pietro Antonello Paolucci da Lanciano e Francesco Ramacciotti di Roma arbitrare del signor Marco Marzuoli di Roma ed ora finisce il tempo delle parole ed inizia la legge del ring inizia la legge del ring la legge del ring ma è un'annone e non ci sono un'anno e non ci sono un'anno e non ci sono un'anno E' la prima ripresa! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.